GF VIP, Edoardo Donnamaria in lacrime dopo puntata di ieri, mi dispiace per Antonella. Il GF VIP non manca, ancora una volta, di emozionare e regalare sorprese ai telespettatori. Quella ondata in onda ieri sera è stata una puntata particolarmente intensa per Edoardo Donnamaria il quale ha confessato di essersi avvicinato particolarmente alla geffina Nicole Murgia. Arrivando anche a toccarle il seno. Il tutto è accaduto all'interno del van, quando Donnamaria, Nicole Murgia, Tavassi e Nicole Incurvaia vi si erano recati per stare lontano dagli sguardi indiscreti e staccando anche il microfono. L'atteggiamento di Donnamaria non è stato privo di conseguenze. Infatti, dopo la sua missione avvenuta in diretta TV, il giovane ha chiuso definitivamente il rapporto con Antonella Fiordelisi. Ricordiamo che il loro legame era caratterizzato da frequenti alti e bassi, conditi da altrettanto numerose discussioni ma questa pare essere stata, come si suol dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Durante la diretta di ieri, Alfonso Signorini ha lasciato intendere che tra i due geffini sia successo qualcosa nel van, quando entrambi credevano di aver staccato le telecamere. Poi, durante una pausa pubblicitaria, è arrivata la conferma di Edoardo. Dopo la puntata, Edoardo si è lasciato andare ad un momento di sconforto e di crisi. A consolarlo i suoi amici Edoardo Tavassi e Nicole Incurvaia. Dal canto suo, il geffino ha ammesso i propri errori. Cercando poi di fare chiarezza e mostrandosi, inoltre, dispiaciuto per aver coinvolto nella storia anche gli amici, io gli abbracci glieli davo a lei. Adesso Antonella è la martire, mi dispiace per voi e per lei. Nella conversazione poi poi Capolino l'incurvaia che provo a consolare Donna Maria e poi lo abbraccia, tu hai noi. Dentro e fuori da qui. Sei una persona stupenda. Tuttavia, nonostante l'affetto e la vicinanza mostrata dai suoi amici, il dispiacere di Edoardo non si placa. Non si placa. Grazie.